L'incidente è nel pomeriggio di martedì 2 luglio, poco dopo le 16, sopra campo frazione di Castellamonte, nelle campagne. Un uomo stava percorrendo i boschi con il quad quando alcuni rami si sono spezzati e li sono caduti addosso. Sul posto sono prontamente intervenuti la croce rossa di Castellamonte, la croce rossa di Quarnier, l'erisoccorso del 118, un operatore del soccorso alpino della stazione di Ivrea, che si è recato sul posto per supportare il 118 nella localizzazione e nell'imbarrellamento dell'infortunato. Dopo essere stato raggiunto e stabilizzato, l'uomo è stato trasportato prima in barilla su strada sterrata e successivamente in ambulanza, all'erisoccorso atterrato Peparetto, che lo ha condotto all'ospedale CTO di Torino. Ha riportato alcune fratture, non è in pericola di vita. Grazie a tutti.